Ciao ragazzi e dunque benvenuti in questo nuovo video, dunque la Juventus batte la Juventus under 23 alla continassa per 8 a 0, test amichevole dopo quello di Villar Perosa la Juve ha testato anche la squadra under 23, partita possiamo dire un po' storica perché è la prima partita alla fine della squadra under 23, la Juve ha regolato la partita per 8 a 0, le reti di Ronaldo che trova la sua seconda reti in due partite molto ravvicinate una dall'altra, Di Bala, Bonucci, Pjanic, Cancelo, Mandzukic, Matuidi e Bernardeschi, ecco quindi li ho detti tutti, un 8 a 0 che lascia ben poco, insomma sono amichevoli che lasciano un po' il tempo che trovano ma le indicazioni sicuramente già viste buone domenica a Villar Perosa ci sono state anche oggi alla continassa per chi la volesse vedere pomeriggio la danno su Juventus TV e quindi potete tranquillamente vederla, che devo dire ragazzi qua al di là delle cose al di tutto io non vedo l'ora che inizi il campionato non vedo l'ora che arrivi che arrivi sabato perché francamente non se ne può più c'è una voglia di Juve pazzesca tra l'altro Ronaldo che ha fatto due gol in due partite diciamo che ci porta ancora di più la voglia di vedere la squadra all'opera in una partita ufficiale ecco e dunque quindi non veramente non vediamo l'ora non vediamo l'ora ragazzi io vi saluto e vi auguro tutti un buon ferragosto e vi do appuntamento con i prossimi video ciao